Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La famiglia reale continua ad affrontare momenti difficili. Dopo il cancro di re Carlo II e la recente chemioterapia di Camilla, la salute dei membri della monarchia rimane una preoccupazione centrale. Secondo un comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace, la principessa Anna, sorella di re Carlo, è stata ricoverata in ospedale a causa di un incidente domestico avvenuto nella sua tenuta di Gackham Park. Attualmente è sotto osservazione per ferite e una commozione cerebrale. Oggi, lunedì 24 giugno 2024, il sito ufficiale della famiglia reale ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni della principessa Anna, che ha 73 anni. La principessa è ancora ricoverata al South Mead Hospital di Bristol, vicino al confine con il Galles. Sua altezza reale rimane sotto osservazione per precauzione, ma si prevede una completa e rapida guarigione. Come riportato nel comunicato ufficiale della Casa Reale e successivamente diffuso da BBC e CNN, anche re Carlo è stato aggiornato costantemente sulla situazione e, insieme a tutta la famiglia reale, invia alla principessa Anna il suo affetto più profondo e i migliori auguri per una pronta guarigione.